Lo scorso 26 maggio è uscito il suo ultimo romanzo, Un uomo senza paura, a D'Artagnan, la storia del primo giornalista suicidato, scritto a quattro mani con Angelo Urgo. È un romanzo verità, di cosa si tratta? È un romanzo dedicato alla verità. È un romanzo dedicato alla verità che è costato sette anni di indagini e di inchiesta. È un romanzo di cui vado molto fiera perché per la prima volta si racconta in modo organico la storia di Cosimo Cristina. Cosimo Cristina è il primo giornalista ucciso dalla mafia in Italia nel 1960 perché aveva fondato un giornale chiamato Prospettive Siciliane dove per primo demunciò la mafia, chiamandola mafia, dicendo di poter raccontare la verità senza peli sulla lingua, denunciando il contrabbando, parlando di droga, di appalti. Era un antesignano di Peppina in passato, però era solo, era a Termini Merese, il baluardo è la mafia di Caccamo e di Panzeca, quindi comunque lui ha sfidato i mulini a vento, se così si può dire. Un lungo lavoro per arrivare poi a questo libro, no? Un lungo lavoro. Sono emozionata nell'essere qua ed ero ancora emozionata a Salone Libro di Torino perché è un lavoro che ho costato sette anni di indagini. Siamo stati all'allenoteca a Firenze a prendere le prospettive siciliane, abbiamo parlato con la fidanzata di Cosimo Cristina a Roma e ci ha raccontato come lei fosse fermamente convinta della tesi dell'omicidio e non del suicidio, tanto che Angelo Mangano, il super poliziotto che prese l'eligio, riaprì il caso. Ma il medico legale non sa, sentì di dire questo, di parlare di omicidio, anche se Cosimo aveva solo una ferita alla testa, varie e chimosi, per cui questo rende un po' impossibile l'essersi buttato sotto un treno. Nella stessa galleria dove anni prima fu ucciso Emanuele Renoso e Bartolo. Lei, questo è un libro rivolto agli adulti, invece nei libri precedenti si rivolge ai bambini. Parlando comunque dello stesso argomento, la mafia, qual è la differenza di approccio dello scrittore? Questa è una domanda difficile, però questo è un caso insabbiato. È un caso insabbiato e non potevo rivolgermi ai bambini. Magari farà fuori qualche graphic novel rivolto ai bambini su Cosimo Cristina, però è un caso sepolto da 60 anni e i bambini si meritano la verità. Quando scrivo per bambini c'è sempre quella componente di sogno, di coraggio, di speranza. In questo caso Cosimo aveva tanta speranza e tanti sogni e tanto coraggio, però gli hanno tolto e non me la sono sentita di raccontare questo ai bambini. Bene, grazie, grazie a Francesca Vamantia. Grazie.